Niente ragazzi E per forza Grande Tre strisce ragazzi dell'Adidas Grandissimi Bene ragazzi quindi avete visto anche voi che appunto ho scelto Adidas Molti di voi me l'hanno chiesto su Youtube Molti di voi me l'hanno chiesto nei commenti Ed ecco qui la sponsorizzazione sul lato del Pullman Altra cosa che mi avete chiesto sia nei commenti di Youtube che su Facebook ragazzi È appunto capire un attimino cosa è successo nel quadro Playoff Allora praticamente la semifinale della Eastern Conference sarà Chicago Bulls contro Charlotte Hornets Ragazzi avete capito benissimo Affronteremo gli Hornets Mentre l'altra è Toronto Indiana Pacers Sono stati eliminati Cleveland Milwaukee Detroit e Miami Dall'altra parte invece ci saranno altre due semifinali Memphis Grizzlies contro i Golden State Warriors E i San Antonio Spurs contro i Los Angeles Clippers Qui le eliminate sono state Oklahoma City Thunder Ma ovviamente sono andato a vedere perché Adesso vi faccio vedere Le hanno perse praticamente tutte C'è stato un cappotto 4-0 Ma perché questo? Perché praticamente sia Durant che Westbrook erano infortunati Dall'altra parte sono passati appunto i Los Angeles Clippers San Antonio E quindi sono state eliminate Los Angeles Lakers Portland Trailblazers E Dallas Mavericks Quindi vi ripeto il quadro Playoff in questo momento A est Chicago contro Charlotte Hornets Toronto contro Indiana Invece a Ovest Memphis Grizzlies contro i Golden State Warriors E San Antonio Spurs contro i Clippers Ragazzi Ed eccolo qui Miracle Man La stella della squadra in questo momento Colui che sta portando i Bulls alla semifinale di Conference Miracle Man Eccolo qui pronto Vieni qua Derek Che facciamo il solito Saluto iniziale Sbam Così Allora in casa dobbiamo farci sentire però Attenzione Perfetto Bravo Derek Tutti troppo concentrati A marcare gli altri E Derek ha trovato via libera Passaggio per Derek Derek prova ad avanzare Poi me la ripassa Io riesco a trovare uno spiraio Però vedo che mi marcano molto bene E però Riesco a piazzare lo stesso questo canestro Difficilissimo Però riesco comunque a piazzarlo Sette punti Per Miracle Man Miracle Man Tente Doppio crossover Ce la fa anche Boom Shaka laka Ci casca Green Nel doppio movimento di Miracle Man Attenzione Proprio i compagni Si fidano di me Vogliono che concluda io questa azione Invece il passaggio è per Tony Che non sbaglia di nuovo Grande decisione di Miracle Tony aveva la mano calda Grande mano calda di Tony che sta sfruttando la grande I minuti Per la sostituzione di Butler che è infortunato Difesa bruttissima di Ayrton E Miracle Man distrugge tutto Bellissima questa schiacciata No adesso prova 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 Giacchino Si è bloccato Si era bloccato Giacchino Alla fine la palla è mia Prova ad entrare Ma Ayrton fa Oh fintozzo di Miracle E il canestro Gioco di gambe di Miracle Man Jefferson adesso Jefferson proverà sicuramente No ho lasciato Green da solo Porca di quella merda Vado in panchina Grazie coach Quindi praticamente Metà del Del secondo quarto E finisce qui Il secondo quarto 55 a 42 I ragazzi sono riusciti a mantenere il vantaggio Ma no Non si arrende Derek Dai che rida solo Potevi tripleggiare Tripleggio io Bam 58 A 44 Attenzione Ancora la palla per Pao Che non sbaglia Altro assist di Miracle Man Bravissimo Pao Jefferson Jefferson contro Noa stoppata La stoppata di Noa Contro Green Vediamo cosa riesco a fare Boom Altro errore Altro rimbalzo Tucker Ma tira da lì Scusa Bravo lo stesso Assist importantissimo Attenzione Un paio di fintossi Disorientano la difesa avversaria Io riesco ad andare via Ma nessuno mi cura Sì 79-67 Cost to cost Attenzione Fallo Liberi per Miracle Bisogna chiudere qui Il conto Il conto E non farci recuperare Come al solito Perché contro Miami Nelle ultime partite Ci siamo fatti Vabbè Ci siamo fatti Recuperare troppo In fretta Cerco un po' di spazio Perché C'era troppa folla Alla fine Mi fa un blocco Importantissimo Riesco ad andare via Boom Shagalaka Basta Miracle vuole chiudere qui la partita Io e Derek giochiamo un po' A passarcelo un po' così Grande Derek La fintozza di Rose Ecco Parla ancora mia Riesco ad andare via subito Vado via Vado via Porca miseria Non ho capito neanche Come cacchio ho fatto A fare cadestro qua Non si è capito nulla Ancora Derek Questa volta me la passa McThermott si smarca Troppo passata Mc Ma dove cazzo era andato Keith Gilchrist L'ha stoppata Di Miracleman 96 a 84 Partita praticamente vinta Perché È difficilissimo Che lo riescono a fare Che schemino Derek prova ad entrare In tutti i modi Ce la fa anche Basta 186 Chiusa Attenzione altra stoppata Ma quante non stoppate Vado via Di nuovo Opla Rischio di perdere Palla Però riesco a tenerla Mancano ormai pochi secondi Mancano Praticamente Una decina di secondi Prova ad andare via Riesco a fregare tutti Boom Posterizzati tutti quanti A sette secondi Dalla fine Miracleman Con questa schiacciata Determina l'incontro Finisce qui questa partita Grande determinazione Di Miracleman Sbaglia ancora Sbaglia ancora Walker Grande determinazione Di Miracleman Vittoria nella prima partita Ragazzi Semifinali Che si possono vincere Dobbiamo stare concentrati Come in questa gara Allora ragazzi Dall'altra parte Quindi nell'altra semifinale Toronto e Indiana Sono già Sull'1 A 1 Quindi ci sarà Veramente Da lottare Anche Nell'altra Semifinale Noi abbiamo vinto Grandissima vittoria Ce la siamo giocata Molto bene Non è stato facile Perché loro Volevano recuperare A tutti i costi Vedremo come va Ancora lo United Center In gara 2 Ci vediamo Nel prossimo Video Bella Ciao 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 Ciao